Il bodybuilding richiede di portare il proprio corpo al limite nella singola serie, nella singola sessione di allenamento, nel singolo mesociclo di allenamento. Se infatti è vero che il cedimento è il massimo segnale stimolatorio che abbiamo da poterci giocare all'interno di una serie, è anche vero che quando guardiamo facendo un passo indietro il nostro mesociclo di lavoro, allora l'overreaching è il segnale che vogliamo raggiungere. Immaginatella così, alla fine del mesociclo il corpo non riesce più a reggere la mole di lavoro a cui l'abbiamo sottoposto per settimane e settimane, il discorso è, bello mio, o ti adatti o cresci o andiamo a fondo tutti e due. Dunque se vuoi massimizzare i tuoi risultati, ogni mesociclo di lavoro deve essere indirizzato a concludersi in overreaching, che è una fase antecedente al sovrallenamento, quindi non ci siamo ancora sovrallenati ma non riusciamo più a reggere la mole di lavoro. E la domanda sorge spontanea, ma come faccio a capire di esserci arrivato? Attenzione, non è domanda scontata perché molte persone raggiungono l'overreaching, non se ne rendono conto e continuano ad allenarsi. E quello che succede è che continuando ad allenarsi automaticamente iniziano a esprimere meno intensità, nera sottile, graduale, neanche se ne rendono conto e sono le tipiche persone che si ritrovano a fare tanto, tanto, tanto volume ma non riuscendo a spremersi davvero. E magari quando fanno un allenamento con qualcuno che li spinge a limite dicono, mamma mia mi sono allenato proprio bene, ma non dovrebbe essere così. Tu ogni sessione devi arrivare al limite. Allora in questo video vedremo una formula semplice che puoi utilizzare per capire di essere arrivato all'overreaching. Per iniziare, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale perché la maggior parte di voi vede i video ma si scorda di mettere il tasto iscriviti, a voi non costa veramente niente, a un click, a noi dà una mano importante per continuare a fare quello che facciamo. Quindi detto questo, andiamo al video. Per comprendere la nostra formula dobbiamo partire da quelli che sono i segnali di overreaching. Iniziamo a vedere nove segnali che possono suggerirci questo status di overreaching. Il primo più classico, la stanchezza, o meglio non solo stanchezza ma proprio poca voglia di allenarti. Ora parliamoci chiaro, se stai vedendo questo video, se in generale segui noi quello che facciamo, probabilmente sei un po' fissato. Probabilmente il fatto che tu non abbia voglia di andare in sala ed allenarti dice tutto. Perché normalmente abbiamo voglia, vogliamo spingere, andiamo là, ci prepariamo la sessione, vediamo l'ora. E quando scende la voglia, che è perfettamente normale, ecco questo è un primo campanello di allarme. Non ho proprio voglia, oggi eviterei, piuttosto eviterei. Non ho voglia di andare, poi magari vado, spingo, quello che ti vale. Però non ho voglia, ecco questo è un segnale, prendiamolo e mettiamocelo da parte. Secondo punto, un calo di performance. Per questo è molto importante tenere un logbook e registrare tutto quello che facciamo. Quindi quante ripetizioni abbiamo fatto in funzione della serie e magari anche un commento, questa è una cosa che noi chiediamo nel tracker, un commento dell'RPE della sessione. Cioè in questa sessione quanto ti senti di aver spinto? È fondamentale. La sensazione, dico, questa è stata una sessione proprio bella, veramente bella, un RPE di 8, 9 o addirittura 10, proprio il massimo, non potevo fare di più. 10 io non lo metto mai, personalmente. Oppure è una sessione in cui sì, ho spinto il fatto, però sono un po' sottotono. Ecco, me lo segno e segno l'RPE. E ovviamente la performance a livello di carichi, di ripetizioni, quello che sono riuscito a combinare. Ecco, se vedo che inizia a calare, altro segnale che prendo e metto da parte. Terzo punto, un'insonnia. L'insonnia è un segnale molto importante perché quando iniziamo a essere molto adrenergici e non riusciamo a dormire, vuol dire che c'è una forte spinta simpatica. Il nostro sistema autonomo non riesce a tornare in parasimpatico, quindi c'è una forte attività di catecolamine, di ormoni controinsulari e non riusciamo a calmarci. C'è una forte spinta cortisolemica, il sistema adrenergico rischia di andare in adrenal fatica, sono i primi segnali. Insomma, non riusciamo a calmarci, non riusciamo a recuperare. E questo è un altro segnale, questo molto molto importante, perché ci stiamo avvicinando a quello che è l'overtraining. Però prendiamolo e mettiamolo da parte. Quarto punto, abbiamo un aspetto a quello che ci guardiamo e di botto iniziamo ad essere molto più acquosi, riteniamo più acqua. E questo è direttamente correlato al quinto aspetto che è avere poco pump. Perché dice, sto off-season, sto mangiando tanto, sto facendo quello che devo fare, insomma, di botto anche poco pump in sala, che faccio alzo i carbo. Beh, in realtà il problema qual è? È che una forte attivazione del sistema simpatico produrrà tanto cortisolo che rimarrà bene o male abbastanza elevato nel corso della giornata. Il cortisolo ha un'attività iperglicemizzante, quindi ci aspettiamo anche che la glicemia tenda ad essere un pochetto più elevata rispetto al solito. E questo vuol dire che quando aggiungiamo carbo, di nuovo è come buttare benzina sul fuoco, il tessuto muscolare sarà sempre inondato di glicemia, ci sarà una necessità di maggiore attività dell'insulina, quindi maggiore attività pancreatica nel produrre insulina, e questo sostanzialmente va a inficiare la sensibilità insulina nel breve e medio termine. Quindi il tessuto muscolare non riesce più a immagazzinare abbastanza glucosio, diminuiscono le scorte di glicogeno muscolare e conseguentemente sentiremo meno pump e ci sarà una situazione di infiammazione subclinica che ci farà avere un aspetto acquoso, oltre al fatto che i muscoli saranno un po' più vuoti e quindi siamo più acquosi. Sesto punto, l'etargia durante la giornata. E questo in realtà è collegato al discorso dell'insonnia. Non dormo bene, ho una forte attività simpatica, ma questa attività simpatica non mi permette di andare veramente a picco. Perché? Perché non ho momenti di valle. Per avere un buon picco devo stare prima in valle, in una situazione di sistema parasimpatico. E quindi questo mi porta sostanzialmente a non riuscire mai veramente a recuperare e a sentirmi letargico. Di nuovo, prendiamo tutti questi sintomi e mettiamoli da parte. Ora arriviamo a dati un po' più succosi che noi chiediamo sempre nel tracker, che sono i BPM, quindi battiti cardiaci a riposo, e durante l'allenamento. Perché questo? Perché normalmente noi dovremmo avere dei battiti cardiaci a riposo abbastanza bassi, quindi ci svegliamo, siamo in una situazione simpatica, tranquilla, i battiti sono nel range. Ma quando ci allineiamo dovremmo avere quella bella attività simpatica che ci porta a boom, esplodere. Quando dico simpatico parlo sempre del sistema nervoso autonomo. Ho dedicato diversi reel su Instagram, quindi se non lo stai già facendo, seguimi su Instagram, ricordalo, perché là c'è veramente tutto un altro mondo, oltre qua su YouTube. Quello che succede in una situazione di overreaching è che abbiamo proprio questa forte spinta del sistema simpatico, che ci porterà a cosa? Innanzitutto avere dei battiti più elevati al mattino, cioè ci svegliamo, appena svegli, e i battiti tendono ad essere più elevati rispetto alla nostra media. C'è questo sistema simpatico che spinge, siamo stressati, cortisolemici. D'altra parte però, proprio non riuscendo ad andare a valle, come dicevo prima, non avremo mai neanche un picco, quindi in allenamento il sistema non si attiva, il sistema simpatico non riesce ad attivarsi bene. E vediamo quello che abbiamo detto, non ho performance e non ho voglia di allenarmi. E tutto torna, quindi questi sono altri dati che tengo. L'ultimo dato interessante è l'HRV, quindi la variabilità di intervallo tra i battiti cardiaci. Un dato un po' più elaborato, che possiamo monitorare, tra parentesi, oltre ai battiti cardiaci con il Gloring. Qua in descrizione trovate tutte le informazioni riguardo a questo Smart Ring. Ecco, la variabilità di battiti tende a diminuire, questo è testimonianza di una maggiore attivazione simpatica, e quindi di nuovo che siamo stressati. Ok, benissimo, questi sono i nostri 9 sintomi. Non è che appena ne vedo uno, allora aiuto, devo scaricare? No, prendiamoli, come abbiamo detto, e mettiamoli da parte, perché possono essere colerati a tantissimi stressor che abbiamo durante la giornata. Andiamo a vedere quindi la nostra formula, come utilizzarli. Questo è il motivo principale, come dicevo, per cui nel coaching, quello che vado a richiedere è un monitorare i dati a 360, quindi anche quelli che sono i biofeedback dell'atleta durante la giornata, lo stress della giornata, il mood, l'energia durante la giornata, sono fondamentali per contestualizzare tutti questi dati, perché può essere che l'allenamento sia eccessivo, può essere che l'allenamento sia nei range, e c'è uno stressor che è passeggero, o uno stressor perenne, e quindi l'allenamento in astratto è nei range, ma contestualizzato a quello che l'atleta sta passando, è troppo. Immaginiamo come una brocca d'acqua, e l'acqua non può traboccare, gli stressor della giornata, cui anche l'allenamento vanno a riempire la brocca, se sono super tranquillo, faccio soltanto l'atleta, la brocca è mezza vuota, e quindi posso riempirla con tanta acqua all'allenamento, se invece è mezza piena, perché faccio mille altre cose e sono super stressato, allora l'acqua che posso aggiungere con il mio allenamento è veramente poca, ma in ogni caso non voglio che l'acqua vada a traboccare. Ci ho detto come utilizzare i parametri, torniamo alla primo punto, se ho uno o due di questi sintomi che ho detto, allora non devo preoccuparmi, non è ancora una situazione di overrici, ma sicuramente devo essere pronto a scaricare, di nuovo potrebbero dipendere da stress della giornata, in questo caso dico ok, dipende da questo periodo, sto staraslocando, sto facendo, però in generale tenersi pronti a scaricare, perché l'overishing sta arrivando. Se ho 3-4 sintomi, allora quello che devo fare è valutare quanto permangono, quindi ancora non scarichiamo, però stiamo a vedere che succede. Nello specifico, se rimangono per 3 o più allenamenti, quindi per 3 allenamenti, mi trovo sempre la stessa situazione, e logicamente per i relativi giorni, allora devo scaricare, perché sono in overishing. Se invece dopo poco se ne vanno, allora probabilmente era un momento transitorio, un accumulo di fatica transitoria, e mi deve portare a riflettere sul perché ci sono stati, di nuovo utilizzo del tracker, valutazione delle sessioni di allenamento, però posso stare tranquillo, se non ovviamente tenermi pronto a scaricare, perché la situazione andrà a degenerare, è inevitabile. Se ho 5 o più sintomi, allora devo scaricare subito, perché in quel caso è certamente una situazione di overishing. Continuare a spingere non ha senso, perché possiamo sì continuare a stimolare, non stimoleremo tanto, ma possiamo continuare a farlo, il problema è che non recupereremo. Quando parlo di recupero, parlo di sovracompensazione, parlo di ipertrofia, quindi puoi stimolare quanto ti pare, ma se ci sono 5 o più sintomi, se sei overishing, non recuperi, non cresci. Questo è tutto ragazzi, spero di avervi dato una formula interessante da poter utilizzare, ricordatevi sempre, il tracking dei dati è fondamentale nel momento in cui vogliamo fare un lavoro certosino. Ovviamente gli atleti, le persone, non hanno tutto il tempo di poter monitorare, ragionare su tutto, io lo faccio per loro, è di base del mio lavoro, quindi mi rendo conto che è una deformazione professionale, è quella di voler essere super preciso, super professionale, ma è quello che faccio e in assoluto permette di monitorare le cose al meglio e ottimizzare quelli che sono i nostri risultati. Qualsiasi domanda qua sotto e noi ci vediamo al prossimo video.